Signori, non vi arrabbiate per la storia che ho fatto. La storia che ho fatto è una storia dovuta perché noi dobbiamo sì tifare eternana, ma poi alla fine essere anche concreti quando evidentemente non si può più ottenere nulla. E non è la fine del nostro avversario che fa iniziare la nostra vittoria. Il prossimo anno io voglio vincere il campionato, o meglio, io voglio andare in Serie A. Io non voglio sentire se e ma. Per me mi dispiace per chi scende dalla Serie A e mi fa tanto piacere per chi arriverà dalla Serie C, ma non me ne può fregare de meno. Il campionato di Serie B è un campionato sinceramente di poco conto, di poco valore, mi scuseranno tutti gli altri presidenti e gloria a chi vince, a chi perde, è proprio un coglionazzo. Detto questo, il prossimo anno noi faremo di tutto per andare in Serie A, perché coglionazzi siamo già stati quest'anno. Arrivederci a tutti.